Salve, io le volevo chiedere com'è stato il ritorno a San Siro, perché per lei è un ritorno, e poi chiedi se è fatto dell'Inter, grazie. E ce l'ho già stato poco fa con il Milan, quindi... Vabbè, insomma, è sempre bello, uno degli stadi più belli, quindi fa sempre piacere tornarci, spero di tornarci ancora, quello è il problema. Vabbè, l'Inter è una grande squadra che si è data una gran bella sistemata. Io all'andata avevo detto che era una squadra che non aveva nulla a che invidiare alle prime, a quelle che lottavano per lo scudetto, e oggi ho avuto conferma. Per sistemata intendo un allenatore che ha dato ordine, non solo in campo, ma anche fuori. Alla fine di una partita giocata bene, come ce ne sono state altre volte in passato nel Pescara, lei diceva che abbiamo difficoltà a segnare, dietro purtroppo commettiamo degli errori incredibili, che poi nel calcio purtroppo diventano determinanti. È un po' frustrante a volte proprio questo aspetto, e quanto il mercato vi può aiutare? Non so, Gilardino, si aspetta qualcosa dagli acquisti anche dietro, è questa la chiave per migliorare? Perché a livello di organizzazione avete sempre dato risposte, grazie. Beh, è frustrante stare dietro, è frustrante non aver mai vinto dopo un campionato che certamente avremmo meritato di avere molto di più, però purtroppo se sei lì vuol dire che hai commesso degli errori, che tutti quanti abbiamo commesso degli errori. Abbiamo provato a dare anche con il mercato, ci abbiamo provato perché non riusciamo a mettere in campo i giocatori, purtroppo è un'annata un po' dannata sotto questo punto di vista, molto molto sfortunata, in mezzo ai nostri tanti errori ma anche tanta tanta sfortuna. Ci auguriamo di poter recuperare velocemente i giocatori, perché su quelli che abbiamo preso certamente ci possono dare una mano. Buonasera, lei diceva che ha notato un grande miglioramento dell'Inter rispetto alla partita andata, in cosa l'ha trovata diversa l'Inter? Nello specifico, grazie. Ma nell'ordine in campo, nella disposizione tattica, anche nella mentalità. Sicuramente è una squadra che lotta di più su ogni palla, è una squadra che si sa aiutare. All'andato ho visto 11 grandi giocatori, al ritorno ho visto 11 grandi giocatori messi bene in campo.